ehi fai metà fai la strada magari se pulisci no è bruciata è bruciata la candela sai perché? sai perché? perché c'è su quei cosi lì per quello è quello è per quello che regalagli i negretti come ho fatto io scusami no io ho regalato i negretti gli ho mandato in africa